Sequestro multimilionario a Malta. La Guardia di Finanza ha eseguito nell'isola un decreto di sequestro di beni del valore di 3,5 milioni di euro nei confronti del legale rappresentante di una società maltese che, secondo gli investigatori, aveva stabilita a Messina un'organizzazione che avrebbe esercitato abusivamente l'attività di raccolta di scommessi online e che non avrebbe dichiarato ricavi per 85 milioni di euro. La società operava mediante alcuni portali web ritenuti riconducibili a plurimi marchi già colpiti da specifici provvedimenti di inibizione da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le attività erano portate avanti sulla base di apposite concessioni rilasciate da autorità estere e non valide in Italia e tramite la raccolta di giochi pubblici a distanza e scommesse tramite rete fisica avvelendosi di centri trasmissione dati e punti vendita ricarica. Delle dite individuali giuridicamente autonome operavano quali centri per la ricezione di proposte di scommessa pubblicizzando il palinsesto della società mandante maltese e contribuendo alla raccolta delle scommesse sul territorio nazionale per conto della Casa Madre Estera.